Ok, allora, come dicevamo, l'obiettivo di oggi è quello di esercitarci un pochino con le liste ma soprattutto con le tabelle che abbiamo introdotto rapidamente ieri facendo un esercizio in cui potremo vedere un po' di operazioni classiche che si possono fare con queste tabelle quindi faremo un giro un po' lungo per pratichirci con questa struttura dati il testo dell'esercizio, l'avevamo già visto, ci chiede e risolve un programma che permette di sopportare un utente nella risoluzione di un QC puzzle il quale è costituito da una griglia rettangolare n per m, quindi con n righe e m colonne in cui in ciascuna cella è presente una lettera alfabetica quindi nel caso di una griglia 4 per 5, 4 per 5 vuol dire 4 righe e 5 colonne quindi qui abbiamo 4 righe, ciascuna con 5 colonne, 5 lettere ciascuna e questo è un esempio di una griglia che potremmo trovarci da risolvere nel QC puzzle l'utente in questo caso inserisce il contenuto della griglia una riga per volta operazione molto noiosa però qualcuno deve inserirle questi dati qua e poi una volta inserita la griglia l'utente può cercare di risolverla risolverla nel senso di trovare all'interno della griglia delle parole che si possono costruire spostandosi sulla griglia in una delle otto direzioni possibili quindi le otto direzioni sono ad esempio partendo da questa R posso spostarmi verso destra sulla I, posso spostarmi verso il basso sulla O, posso spostarmi verso l'alto sulla C verso sinistra sulla D oppure le altre direzioni sono quelle diagonali quindi da R posso andare su questa D, da questa R posso andare su questa B, su questa O o su questa N quindi rispetto alla posizione riga colonna posso spostarmi sulle caselle il cui numero di riga sia più o meno 1 rispetto al numero di partenza alla cellula di partenza e il cui numero di colonne sia più o meno 1 rispetto alla posizione di partenza fatto questo quindi l'utente inserisce una parola se la parola fosse NO, ad esempio NO, allora il programma dovrebbe dirmi guarda che NO c'è, puoi trovarla qui ad esempio partendo da questa posizione andando a destra oppure puoi trovarla così partendo da questa posizione e andando verso sinistra in questo caso la parola NO compare due volte oppure la parola come dice l'esempio qua sotto sotto la parola LODE c'è una L riga 3 colonna 4 quindi quarta riga 0,1,2,3 quarta riga, riga numero 3 e colonna 0,1,2,3,4 quinta colonna 0,1,2,3 quindi no scusa, quarta riga e quarta colonna quindi coordinate 3,3 poi ho questa posizione che è in terza riga e terza colonna c'è una O poi una D e poi ho una E quindi in questo caso la parola LODE esiste, è presente partendo da questa casella e andando in direzione in alto a sinistra quindi abbiamo queste otto direzioni possibili e niente, il programma semplicemente ci chiederà delle parole noi dovremmo inserire queste parole ripetutamente e ci dirà ogni volta questa c'è oppure non c'è all'interno della griglia ovviamente dobbiamo fare attenzione quando navighiamo la griglia che questa ha un limite quindi devo fermarmi nella ricerca ai bordi della matrice ma questo lo vediamo allora come possiamo impostare questo esercizio? allora creiamoci un file python chiamiamolo cruci puzzle e quindi risoluzione esercizio cruci puzzle proviamo a immaginarci la struttura io ci ragiono provo a ragionare in modalità top down prima proviamo a immaginarci il programma nel suo complesso e poi sviluppiamo le varie funzioni che ci servono ok? quindi parto da un main ipotizzando di avere tutte le funzioni che mi servono e dico che cosa dovrà fare il programma? beh, prima di tutto dovrà leggere la griglia di lettere chiedere all'utente di inserire la griglia di lettere allora questo vuol dire che noi possiamo avere una una variabile possiamo chiamarla griglia che chiediamo di leggere chiediamo che l'utente che venga letta dall'utente quindi leggi griglia ipotizziamo di avere una funzione leggi griglia che puoi leggerare effettivamente questa è la griglia dell'utente questa se la scriverò dopo posso cominciare a scrivere mettere insieme un segno a posto una funzione che per ora non fa nulla scrivo l'istituzione pass che non fa nulla ma così sintaticamente non mi dà errore quindi in questo caso la prima cosa che fa il programma principale è leggere la griglia dall'utente e questa griglia sarà una matrice con n righe e m colonne dove la dimensione di questa matrice lo deciderà l'utente il programma principale non lo sa non lo può sapere fino a quando l'utente non inserisce i dati quindi questa qua è la fase di inserimento dati da parte dell'utente e poi ho una fase in cui di gioco vero e proprio in cui l'utente inserisce una parola e io devo verificare se c'è se questa parola effettivamente è presente quindi io a questo punto avrò un semplice loop parola uguale input di parola chiedo all'utente una parola magari la converto in maiuscola perché uguale parola punto upper così non ho problemi tra maiuscole e minuscole e verifico se questa parola è presente nella griglia quindi potrò avere una funzione che mi dice se ho trovato la parola una funzione cerca parola che cerca se questa parola è presente nella griglia poi se è trovata allora potrò stampare trovata ad esempio altrimenti stamperò parola non esistente non esistente e poi ripeto per mettere l'utente di ripetere quindi in realtà tutta questa parte qua la potrò mettere un bel ciclo while che si ripete finché l'utente inserisce qualche cosa ok quindi questa cosa qua diciamo che ripetiamo la lettura del dato alla fine in modo che tutto questo possa essere messo in un while while parola diverso da stringa vuota così questa potrebbe essere la struttura generale del programma dove ovviamente avrò bisogno di anche questa funzione cerca parola che mi dice c'è non c'è la parola cercata all'interno della griglia quindi definirò un'altra funzione cerca parola che riceverà due parametri uno è la parola cercare ovviamente e l'altro la griglia nell'interno della quale cercarla e per ora questa funzione non fa nulla diciamo return false una funzione che per ora ritorna falso perché non sappiamo ancora cosa fare ok allora il main c'è già no se io volessi potrei già eseguire questo programma lui mi ah scusate non fa nulla perché non ho chiamato il main potrei eseguire questo programma e lui mi chiederebbe non mi chiede la griglia perché non ho ancora scritto quel codice è una parola che io posso scrivere abc qualunque parola io scriva ovviamente mi dice che non è esistente però quando batto invio il processo termina quindi il main ce l'ho già non mi rimane che scrivere le funzioni che servono al main e che costruiscono innanzitutto questa la prima funzione questa leggi griglia che deve costruire leggere dall'utente andiamo a controllare il testo dice in una prima fase l'utente inserisce il contenuto della griglia una riga per volta terminando con una riga vuota quindi dobbiamo dentro questa funzione mettiamo un commento di descrizione della funzione stessa permette o chiede all'utente di inserire una griglia di lettere una riga per volta terminando con una riga vuota e cosa restituisce questa funzione questa funzione restituisce una tabella lista di liste contenente le cui celle contengono le singole lettere inserite cioè quello che sto cercando di fare diciamo così una versione di questa funzione potrebbe creare una struttura dati di questo genere se io avessi una matrice 2x2 o di 2x3 x y z virgola a b c questa è una costante l'ho messa lì come esempio adesso dobbiamo sostituirla con degli input però per vedere se funziona io ho questa funzione potrebbe restituire questa variabile griglia restituisce la lista che abbiamo appena creato questa nel programma main dopo che ho fatto leggi griglia potrei per verifica fare una print di questa griglia e vediamo cosa salta fuori cioè sto per gradi trasformando questa funzione da una funzione che non fa nulla a una funzione che fa ciò che doveva fare però in ogni grado cerco di capire cosa sto facendo in questo caso ho costruito una tabella di due righe per tre colonne costante con delle lettere inventate se faccio render programma vedrò che in quella print che viene fatta dal main effettivamente questa lista di liste è stata costruita ed è disponibile al main ciò non toglie che ovviamente quando scrivo una parola qua sotto continuerà a dirmi non esistente perché la funzione di ricerca non l'abbiamo ancora fatta va bene ok quindi questo è il tipo di struttura dati che stiamo cercando di costruire dentro questa funzione e poi più tardi utilizzare come ricerca se vogliamo possiamo metterci un bel breakpoint qua per vedere meglio che cosa succede passiamo in modalità debug ho messo il breakpoint qui per vedere la struttura dati griglia come vi viene presentata vedete che la griglia è una lista di due qua sotto lista di due due righe purtroppo qua non si può ingrandire il carattere di due elementi che corrispondono alle due righe ciascuno delle due righe a sua volta è una lista di tre elementi che corrispondono alle tre colonne e questa lista di tre elementi avrà questi tre elementi i quali ciascuno dei quali a sua volta è una stringa di un carattere solo una stringa di lunghezza 1 x y z quindi abbiamo la tabella che è fatta di righe due righe ciascuna riga è fatta di colonne tre colonne ciascuna colonna è fatta di un carattere una stringa di un carattere e qui la stessa cosa se la allarghiamo tutta la struttura e viene fatta così a tre livelli annidata la tabella la riga la colonna l'elemento questa è la struttura dati che vogliamo creare adesso l'abbiamo creata in modo costante e dobbiamo fare in modo che invece venga letta dall'utente venga letta direttamente dall'input dell'utente allora stoppiamo il programma andiamo a modificare questo questo qui lo commentiamo allora cosa deve fare l'utente deve inserire tante righe quindi partirà che ne so da un input in cui chiedo inserisci riga e lui metterà una prima riga che ne so ad esempio mi mette xyz mi inserisce come un'unica stringa ogni volta che lui mi inserisce una riga io devo costruire una lista l'utente inserisce xyz che è sotto forma di stringa io devo trasformare questo xyz in una lista che contenga x poi y poi z questa lista la vado poi a inserire dentro la tabella quindi devo fare una serie di passaggi questa tabella ovviamente la dovrò inizializzare come una griglia vuota ok inizialmente la griglia è vuota poi costruirò una per una le sue righe e una volta che ho creato una riga la aggiungo alla griglia scusate non fatemela chiamare riga se non mi confondo fatemela chiamare lettere le lettere sono la stringa che l'utente ha inserito ok allora cosa dovrò fare una volta che l'utente ha inserito queste lettere devo convertire le lettere in riga quindi riga uguale una lista fatta dai singoli caratteri di lettere cioè ad esempio questa qui l'ho scritto in italiano poi queste frecce qui sono impazzito e una volta che ho costruito questa variabile che otterrò trasformando la stringa in una lista posso aggiungere la riga alla griglia ops cosa ho fatto quindi sto prendendo cosa fa questa append prende una griglia che prima era vuota gli appendo queste questa lista come primo elemento della lista e quindi cosa otterrò sarà una lista che contiene un elemento e questo elemento a sua volta è questa lista quindi avrò ottenuto una tabella di una riga e tre colonne con questa operazione di append ok quindi parto dalla tabella vuota mi costruisco una lista che rappresenti che contenga gli elementi di una singola riga e poi con l'operazione di append aggiungo alla tabella principale la lista che contiene gli elementi attenzione che qua ci sono due parentesi quadri è molto diverso questa scrittura che è una lista di tre elementi da questa scrittura che è una lista di un elemento il quale a sua volta è una lista ok e allora se riesco a fare questo mi basterà ripetere in un ciclo questa operazione qua in cui ogni volta leggerò dall'utente delle lettere e costruirò la riga della tabella corrispondente alle lettere precedenti e così via quindi sarà abbastanza facile basta ripetere questa cosa tante volte quante sono le righe come faccio a costruire quindi sotto domanda come faccio a costruire una lista partendo dalle lettere di una stringa beh non c'è nulla di difficile commentiamo un attimo questa cosa partirò da una riga vuota volendo e poi aggiungo uno per uno i singoli caratteri delle lettere quindi for ch in lettere riga appunto appende ch di sulla ch quindi prendo una lista vuota itero sulle singole lettere della della stringa d'ingresso a ciascuna lettera verrà aggiunta come un singolo nuovo elemento all'interno della lista riga ok magari fatemi solo mettere un upper anche qua lo facciamo una volta per tutte così non ci lettere lettere punto app quindi per costruire una lista fatta dai singoli caratteri lettere posso farlo con questo semplice ciclo oppure ieri abbiamo imparato le comprehension questo è il tipico caso di un ciclo per costruire una lista che potrei scrivere semplicemente come comprehension la riga è una lista i cui elementi sono i caratteri che ottengo iterando dentro la stringa lettere nella chat Rebecca ci scrive se faccio inserire dall'utente le lettere separate da una virgola potrei utilizzare la funzione split per creare la lista della singola riga sì è anche possibile però io lo volevo fare semplice per l'utente senza fargli inserire le virgole quindi queste sono le tre righe con l'append e questa è la singola istruzione che crea la stessa cosa come comprehension in realtà possiamo anche vederle nella console di python se io se io creassi le lettere la stringa xyz cosa faccio se scrivo una comprehension di questo genere ch for ch in lettere mi dà una lista fatta appunto di xyz quindi questo ciclo for ripete il ch per ciascuno usa la stringa questo lo avevamo già fatto iterare su una stringa carattere per carattere la stringa a sua volta è una sequenza così come in una lista posso iterarci sopra quando itero su una lista mi darà uno per volta i suoi elementi qualunque essi siano anche complessi quando itero su una stringa mi darà ogni volta ogni iterazione il singolo carattere in realtà c'è anche un'altra forma ancora più breve di costruire una lista a partire da una stringa usando la funzione list che crea una lista quindi così quando creo una lista a partire da un'altra lista la funzione list mi crea una lista nuova prendendo gli elementi della lista esistente lo posso fare anche passandogli una stringa e in questo caso i singoli caratteri della stringa verranno presi come gli elementi i singoli elementi della lista quindi questo è l'altro modo di spacchettare una stringa in una lista un carattere per volta quindi potrei anche scrivere riga uguale list di lettere questi tre modi uno due tre sono del tutto equivalenti alla fine ottengo la stessa cosa questa qui quale vogliamo lasciare gli altri le commentiamo possiamo lasciare l'ultima che è la più breve ma sono tutti assolutamente validi e assolutamente equivalenti a questo punto ho ottenuto questa famosa lista xyz e la possiamo appendere alla lista creando una lista a questo punto una griglia con una riga tutto questo che faccio lo ripeto lo ripeto perché la seconda riga la terza riga la quarta riga e così via quindi mi dovrò fare mettere tutto questo dentro un ciclo while quindi qui ho la lettura delle lettere while lettere diverso da vuoto ripeti queste operazioni che poi alla fine sono due istruzioni e poi ripeti la lettura della prossima riga prima di ricominciare dall'iterazione successiva così proviamo un po' vediamo cosa fa a questo punto inserisci riga sono bloccato qua questa input metto xyz e inserisco un'altra riga abc volutamente le inserite minuscole poi se batto invio a vuoto questa volta deve fermarsi esce e questo è ciò che stampa il main che ha ricevuto questo valore di ritorno ok quindi questo è costruita correttamente questa tabella di due righe e tre colonne ok usando questa sintassi cioè una riga le lettere di una riga una per volta una riga per volta e quando batto invio termino l'inserimento adesso dovrei fare ancora un po' di attenzione al fatto che l'utente il fatto che l'utente inserisca tutte le righe della stessa lunghezza cioè provo a farvelo vedere se io avessi un utente che inserisce abcdf e poi la riga successiva xy il programma lo farebbe comunque perché per il momento non c'è nessuna non c'è nessun vincolo ok il programma non fa nessun controllo e quindi avrei una tabella che è un po' sbilanciata cioè non è questa non sarebbe è una lista di liste sì ma non sarebbe non la posso chiamare tabella perché non ho un numero di colonne costante quindi volendo potremmo aggiungere qualche controllo in più sulla lunghezza di queste lettere che vengono inserite dall'utente che siano tutte della stessa lunghezza altrimenti devo segnalare un errore all'utente questo magari lo aggiungiamo in un secondo momento prima facciamolo funzionare poi aggiungiamo i controlli segniamocelo solo me lo metto qua come commento to do controlla che le colonne abbiano tutte la stessa lunghezza ok allora c'è una richiesta nella chat di mandare il programma scritto fino adesso ve lo mando subito e poi c'è l'altra richiesta che dice non ho capito perché non serve mettere il parametro nella funzione allora se stiamo parlando se hai capito bene la domanda stiamo parlando della funzione leggi griglia questa non ha nessun parametro perché non ne ha bisogno il suo scopo è quello di leggere la griglia dell'utente e di quali informazioni di quali dati ha bisogno questa funzione per poter fare il suo scopo ha bisogno che il main gli passi qualche informazione no semplicemente fa il suo lavoro e restituirà come da contratto return una tabella una lista di list di parametri non ne ha nessuno in questo momento e quindi non ha bisogno di nulla Andrea mi chiede perché to do è saltato fuori in un colore diverso questo è l'editor che mi evidenzia to do se vogliamo è un codice intorno un codice interno che semplicemente viene evidenziato e a volte me lo sfa anche vedere semplicemente me lo colore in modo diverso così me lo ricordo mi ricordo che questo non è un commento ma è una diciamo così una dimenticanza oppure un appunto che faccio per me stesso quindi dal punto di vista del python è un commento come tutti gli altri pycharm me lo colore in modo diverso per aiutarmi proprio perché se scrivessi to do con lo spazio probabilmente non me lo fa quindi è proprio solo una convenzione interna dei programmatori che pycharm riconosce ok allora direi che la parte a parte di questo controllo qua che per il momento non facciamo perché vogliamo andare avanti la parte di inserimento della tabella mi sembra corretta adesso la cosa che è un pochino brutta è che poi lui me lo stampi in questo formato allora magari anziché stampare in questo formato se poi l'utente capite che deve cercare le letterine per trovare le parole al suo interno è particolarmente scomodo ok e allora tanto vale magari farsi una funzioncina che stampi la tabella in modo ordinato non ci avevamo pensato prima pensavo di cavarcela nel main con una semplice print ma abbiamo visto che la print non è il massimo dal punto di vista estetico allora nulla ci vieta di farci una funzioncina stampa griglia che la stampa in modo ordinato adesso questa funzione stampa griglia ovviamente avrà bisogno della valore della griglia della variabile della matrice che deve stampare ok quindi ci possiamo andare a definire questa funzione stampa griglia io ho usato anche qua una scorciatoia di pi charm come vedete se chiamo una funzione che non esiste ancora devo definirla no allora qui mi dà già la la scorciatoia che mi dice creami questa funzione se ci clicco sopra mi crea già il def della funzione già mettendogli il parametro e già mettendogli il passo in modo da non avere questi errori di sintassi no quindi per carità ho risparmiato mezzo secondo ok la stampa della griglia me la mette davanti al main che a me non piace me la sposto sotto se non vi se non vi crea problemi perché è una funzione poco importante la mettiamo in fondo e non comprima allora a questo punto dovrò stampare beh la cosa più semplice è stampare la matrice una riga per volta con un po' di spassi un po' di allineamenti e quindi dobbiamo andare a vedere for allora come possiamo stampare il contenuto di una matrice possiamo lavorare per righe colonne quindi riga in range numero di righe colonne numero di colonne e poi posso stampare griglia di riga colonna poi la formattiamo l'allineiamo eccetera però per ora concentriamo sul ciclo questo è un modo dove ho un ciclo esterno sulle righe r sta per riga un ciclo interno sulle colonne cip sta per colonna e semplicemente devo definire l'indice di questo ciclo sono gli indici di riga e gli indici di colonna ok e devo definire semplicemente come fare a scoprire il numero di righe della tabella e il numero di colonne della tabella visto che è un'informazione che non ho beh l'abbiamo già visto ieri il numero di righe altro non è che è la lunghezza della lista esterna la lista griglia che è fatta di tante righe e quante righe ci sono è il numero di elementi di questa lista esterna e il numero di colonne è invece il numero di elementi di una qualunque delle liste interne che se tutto va bene hanno tutti la stessa lunghezza e quindi posso fare la lunghezza della che ne so della prima riga che mi dà il numero di colonne in questo caso poi posso stampare appunto ciascuna griglia le metto ciascuna casella le metto sulla stessa riga separate magari da uno spazio e poi mi ricordo di andare a capo tra una riga e l'altra quindi alla fine del ciclo sulle colonne devo andare a capo per passare alla riga successiva ok questo è il modo più semplice di stampare il contenuto di una tabella vediamo se funziona xyz abc qwe invio questa è la print che avevamo lasciato da prima questa è la tabella che mi viene stampata dalla mia funzione ovviamente stiamo dando per scontato rispondo a Andrea che mi ha scritto nella chat stiamo dando per scontato che l'utente inserisca delle lettere perché è quello che vogliamo cercare se poi l'utente va ad inserirmi dei numeri dei segni di punteggiatura o altro è chiaro che il programma non funziona quindi i controlli da fare sull'input sono sempre infiniti possiamo lasciarli come sempre per una seconda fase volevo però farvi vedere anche un altro modo in cui posso stampare questa griglia perché qui ho fatto un ciclo sugli indici ok però posso anche fare un ciclo sui valori della tabella allora cosa succederebbe se io facessi un for r in griglia cosa vorrebbe dire beh la griglia abbiamo detto che è una lista una lista di liste quindi quando itero sulla griglia i singoli elementi su cui itero sono che cosa sono le singole liste di cui questa è composta quindi non la chiamo r perché r prima era un indice la posso proprio chiamare riga cioè a ciascuna iterazione riga è la lista che corrisponde agli elementi di una riga e a questo punto riga è che cos'è è una lista e allora posso iterare sui valori presenti presenti in quella lista che sono che cosa io so che sono caratteri quindi ch sono gli elementi della lista interna cioè le colonne i valori no? e quindi a questo punto posso semplicemente stampare questo ch poi con la stessa accortezza di andare a capo eccetera quindi posso iterare su una tabella per indice con il range oppure per valore ovviamente quando itero per valore non so più quali sono gli indici ovviamente ma questa è già una cosa che sapevamo da quando facevamo le liste è più semplice quando mi serve semplicemente il valore ricordiamoci attenzione solo che questa variabile riga non è un indice ma è a sua volta una lista proprio per questo essendo una lista ci posso iterare sopra e quindi se inseriamo riproviamo inserirla dovrebbe capitare la stessa cosa abcdfghi invio stupido ho dimenticato di chiamare la funzione print quindi abcdfghi invio ok questa è la prima me l'ha stampata la prima volta col ciclo for range qui me l'ha stampata una seconda volta col ciclo for value non for in è la stessa cosa ovviamente no? dipende se l'operazione che dobbiamo fare sulle singole caselle richiede che io conosca il numero di riga e il numero di colonna allora userò questa forma se non me ne frega niente conoscere il numero di riga e di colonna ma semplicemente il valore userò questa forma se mi servono entrambe ricordiamoci che esiste enumerate che possiamo usare esattamente anche qua come usavamo sulle liste semplici adesso ne commento una delle due per per non avere la stampa doppia ok a questo punto ci abbiamo girato intorno ma dobbiamo arrivare a cerca parola no? perché finora tutto il resto c'è ci manca solamente più il metodo cerca parola che data una parola e una griglia mi deve dire se questa parola è presente o no all'interno della griglia quindi mi ritornerà un valore che è vero o falso sulla base del quale io stamperò se esiste oppure non esiste visto che poi dal punto di vista pratico noi dovremo tante volte inserire una griglia che però non sia ABC ma sia una griglia un pochino più sensata ad esempio quella dell'esempio no? proprio per comodità mia io inserisco adesso quella dell'esempio che era EBCDE EBCDE scusate posso vedere qua EBCDE poi FDR IJ poi K OO NO e poi TQR LT invio e semplicemente uso il fatto che qui avevo fatto questa print per andare a modificare la funzione per comodità mia la funzione leggi griglia dicendo semplicemente return di questa cosa qua cioè tutta questa funzione leggi griglia funziona abbiamo visto che funziona però immaginate dover provare 100 volte questo programma con la funzione di ricerca e ogni volta dovremo come prima cosa inserire una matrice 5x4 e non ci passa più la maggior parte del tempo la spendiamo inserire la matrice poi magari sbagliamo dobbiamo rifarla eccetera allora sostituiamo questa funzione leggi griglia con una funzionalità come si dice in gergo uno stub cioè una funzione finta che restituisce un valore fittizio ma ragionevole non fa il lavoro vero però fa un surrogato del lavoro cioè ci mettiamo un sostituto al suo posto e ci permette di andare a lavorare di concentrarci su altre parti del programma mentre questa parte qua del programma è già fatta e la riattiverò dopo basterà commentare questa istruzione ma nel frattempo in realtà anche questa funzione qui quando avevamo scritto cerca parola return false era a sua volta uno stub cioè una funzione che esiste lo definita ma non fa un lavoro non fa il lavoro vero ritorna un valore fittizio ma questo valore fittizio mi è servito per poter cominciare a testare il programma adesso mi concentro su questa parola quindi diciamo così creo degli stub per altre funzioni che non mi rompano le scatole e mi concentro su questa parola qua quando la cerca parola sarà completata devo ricordarmi vado a cancellare questa istruzione a commentarla e quindi il programma sarà completo ok quindi vediamo un attimo se questo funziona dovrebbe già partire direttamente conoscendo questa matrice senza chiedermi di inserirla ogni volta ok a questo punto posso anche cancellare questa print tanto non mi serve più e mi rimane solamente più la griglia pulita ho usato questa print come una scorcia toia per fare copia e incolla di quella struttura Caterina mi chiede come faccio a commentare più righe in un colpo solo e questo abbiamo scoperto che è un problema nel senso che la combinazione di tasti per commentare più righe è control slash quindi prendo un control e il tasto slash però ci siamo accorti già con altri vostri compagni che sulla tastiera italiana questa combinazione qua non funziona perché lo slash è su 6 mi sembra e allora per far venire lo slash dovresti fare shift 6 e se ci aggiungi il control lui fa una funzione diversa che è quella di mettere un su 6 su 7 se non ricordo perché la tastiera inglese è davanti la tastiera americana davanti è quella di mettere una sorta di segnalibro cioè PyCharm ci permette di mettere vari segnalibri per ricordarci le posizioni del codice e poi poterci tornare con shift control e un numero però questo purtroppo impedisce l'utilizzo di questa funzione control slash si può fare andando a modificare le scorciatoie di tastiera nelle impostazioni di PyCharm quindi se andate qua dentro nei settings se andate a vedere le scorciatoie di tastiera il keyword shortcut lo dovete ridefinire con qualche altra combinazione di tasti non siamo riusciti a trovare quando ci avevo provato con i vostri compagni una combinazione di tasti che sulla tastiera italiana funzionasse per fare quest'operazione qua a blocco ah si se voi avete il blocco numerico oppure un computer che abbia il tastierino numerico separato quindi il tastierino con i numeri da parte qua allora potete usare lo slash che c'è qua e dovrebbe funzionare però un pochino macchinoso infatti io tutte le volte che compro un computer mi accerto di poterlo acquistare con la tastiera con l'eo americano che non mi crea questi problemi di parentesi graffe di apc o di combinazione di tasti poi un giorno quando ho tempo vi insegno come fare anche gli accenti italiani sulle tastiere americane che in realtà è più facile che non con la tastiera italiana quindi purtroppo non c'è una soluzione molto comoda allora cerca parola cerca parola riceve che cosa? parola che è una stringa e griglia che è una tabella proviamo a scriverlo documentiamo questa funzione prima convinciamoci di essere di essere sicuri di sapere che cosa deve fare quindi cerca stabilisce o analizza la griglia e stabilisce se la parola ricevuta è presente nella griglia diciamo così muovendosi nelle otto direzioni possibili quindi come parametro riceve la parola da ricercare come il secondo parametro della griglia è la tabella contenente le lettere del cruciplasol e ristituirà true se la parola è presente è stata trovata false se non è presente ok qui eravamo stati conservativi abbiamo detto ritorno a falso adesso dobbiamo fare la ricerca vera e propria pensiamo alla famosa parola lode che era nell'esempio come faccio a scoprire prima ci ragiono a mano a scoprire se la parola lode è presente in questa tabella beh io direi che dovrei provarle tutte provo tutte le posizioni di partenza ok partendo da questa casella posso creare la parola lode no perché inizia con una e lode inizia con una l fine partendo da questa casella no partendo da questa casella no partendo da questa casella quindi innanzitutto io so che la parola lode inizia con la lettera l e quindi tutte le caselle che non sono una l non mi interessano da lì non potrò costruire la parola e in questo caso sono fortunato perché di l ne ho una sola quindi l'unica l'unico controllo che devo fare è partendo da questa casella potenzialmente trovo la parola perché la prima lettera c'è è giusta se ci fossero più l nell'esempio se cercassi una parola che inizia con d ho due d nella tabella e quindi devo provare a cercare la prima e se non la trovo cerco dalla seconda ok ma noi eravamo cercando l'ote allora io so che la prima lettera c'è allora provo a vedere la seconda lettera della parola che sto cercando la O è raggiungibile in una delle otto direzioni allora proviamo a vedere quali sono le otto direzioni verso destra verso destra c'è una T no quindi verso destra non trovo nulla verso il basso verso il basso non c'è niente quindi verso il basso non trovo nulla verso l'alto verso l'alto dopo la L c'è una N la N non è una O e quindi non trovo nulla verso sinistra c'è una R non trovo nulla verso in alto a destra verso in alto a destra la prima lettera c'è la seconda lettera c'è però purtroppo mi manca ancora la terza e la quarta lettera e non ci sono perché sono uscito fuori dalla tabella e quindi anche di qua non ci sarà verso in alto a sinistra in alto a sinistra la prima lettera c'è la seconda lettera c'è corrisponde la terza lettera c'è corrisponde la quarta lettera c'è corrisponde ho finito le lettere che dovevo trovare e quindi ho trovato la soluzione in realtà potrei ancora cercare in basso a destra e in basso a sinistra che sono le altre due direzioni ma mi fermerai subito perché sono già sull'ultima riga quindi in basso a questa non c'è nulla allora io qui mi sto facendo l'idea che devo strutturare la ricerca su due passaggi il primo passaggio è trovare se c'è la lettera iniziale all'interno della griglia se c'è e tutte le volte in cui c'è perché magari c'è più volte devo partire da quella lettera iniziale e muovermi nelle otto direzioni prima proprio verso destra poi verso l'alto poi verso sinistra poi verso il basso poi in diagonale di qua di qua di qua e in ciascuna di queste quattro posizioni provo a spostarmi lungo la tabella e vedere se le lettere che via via incontro coincidono per caso o per fortuna con le lettere della mia parola che sto cercando ok quindi ho questi due livelli di ricerca il primo livello quindi lo potrei dicendo la parola è cerca tutte le caselle in cui c'è la lettera iniziale e come faccio a cercare tutte le caselle in cui c'è la lettera iniziale beh itero sulla matrice con un solito doppio ciclo for che mi fa scandire le righe per ogni riga le colonne e faccio la stessa cosa che faccio con la print solo che anziché stampare vado a fare un controllo se la lettera che è presente nella griglia alla riga R la colonna C fosse per caso uguale alla prima lettera della parola quindi for R in range griglia for C in range length griglia di 0 cosa sto scrivendo qua if griglia di riga colonna fosse uguale alla prima lettera della parola che sto cercando parola di 0 allora ho trovato la lettera iniziale verifico se prosegue se la parola prosegue altrimenti non faccio nulla altrimenti vado avanti con queste cicli for provando tutte le R per C righe per colonne posizioni se arrivo alla fine di tutto che non ho trovato nulla allora aveva ragione questa istruzione return false guarda hai cercato dappertutto e non l'hai trovata ok allora non c'è quindi qui proviamo solo per ora facciamo solo una verifichiamo questa parte di codice ok quindi facciamo semplicemente una print in cui diciamo che abbiamo trovato una lettera parola di zero nella posizione riga colonna ok quindi non facciamo la ricerca vera e propria ma stiamo dicendo i punti da cui vorremmo iniziare iniziare la ricerca quindi verifichiamo di non aver fatto errori finora quindi io rifaccio riavviare il programma scrivo la parola lode e il programma mi dirà guarda ho trovato una L nella posizione 3-3 quindi quarta riga quarta colonna giustamente è questa qui poi vabbè ritorna falso quindi stamperà ancora non esistente provo a mettere dado la parola dado ovviamente non c'è però lui mi dice che ha trovato due D una nella posizione 0-3 l'altra nella posizione 1-1 vediamo un po' se è vero 0-3 vuol dire prima riga quarta colonna giusto 1-1 vuol dire seconda riga seconda colonna giusto se scrivessi 8 lui direbbe che le O sono nella posizione sono 3 in questo caso nella posizione 2-1 2-2 2-4 quindi su te nella terza riga la posizione la colonna 1 quindi la seconda colonna colonna 2 quindi la terza colonna colonna 4 quindi la quinta colonna ok quindi la posizione di partenza l'abbiamo trovata poi ovviamente questo codice oltre a fare questa frint non fa nulla alla fine ritorna falso e quindi il programma principale stamperà non esistente perché attenzione io non ho ancora trovato la parola ho trovato solo l'iniziale della parola adesso devo andare a cercare se questa parola continua se prosegue allora potrei farlo a questo punto cosa devo fare devo verificare se la parola prosegue come faccio a verificare se la parola prosegue e devo spostarmi dalla posizione RC di una casella a destra oppure una casella a sinistra oppure una casella verso l'alto e via via controllare confrontare le successive lettere della parola e questo purtroppo lo devo fare otto volte per ciascuna delle otto direzioni allora lo possiamo fare io lo farei solo per ordine lo farei in una funzione diversa in una funzione separata se non vi dispiace se non vi confondi a troppo avere tante funzioni ma in realtà semplifica e quindi io mi chiederei se la parola continua prosegue verifico se la parola prosegue ok allora mi fate una funzione parola prosegue quale parola questa parola cercata in questa griglia a partire dalla posizione riga colonna questa funzione parola prosegue sa già che nella posizione riga colonna c'è la lettera iniziale deve andare a vedere se prosegue in una direzione ok se questa funzione mi ritorna vero vuol dire che l'ha trovato allora io a mia volta potrò ritornare vero al mio chiamante al main dicendo guarda la parola è stata trovata dalla posizione rc se questa parola prosegue ritorna falso dice guarda non l'ho trovata beh magari non l'ho trovata la prima posizione lo troverai dalla seconda perché magari ci sono più punti di partenza quindi io ho questo ciclo for non lo interrompo andrò comunque fino in fondo se però c'è una posizione rc in cui ho scoperto che la parola prosegue allora questo return messo qui ovviamente mi interrompe la funzione quindi interrompe il cicli for esco immediatamente della funzione dicendo l'ho trovato quindi da questa funzione cerca parola posso uscire in due modi o se ho trovato un proseguimento un punto di partenza della della parola e poi anche ho verificato che prosegue fino in fondo allora esco dicendo l'ho trovata se invece dopo aver provato tutte le posizioni rc non ho trovato nessuna posizione in cui la parola potesse iniziare oppure se anche iniziava non potesse proseguire e allora dopo aver finito tutte le interazioni esco con falso quindi io spero di poter uscire da questo lato qua ok Maddalina mi sta suggerendo di scrivere rp1 e cp1 come stampa in realtà questa stampa qua non è la stampa per l'utente finale è ancora una stampa di debug interna nostra quindi mi sta benissimo usare l'indice di riga e l'indice di colonna chiaramente l'utente finale dovremmo dire la colonna 2 e non la colonna d'indice 1 per non avere questi 0 ma per il momento non ci stiamo ancora occupando diciamo dei messaggi da dare all'utente allora abbiamo delegato in questo caso questa funzione parola prosegue il lavoro da fare per cercare una parola all'interno di una griglia a partire da una certa posizione rc io sono obbligato a vedete che la griglia è una variabile che ho creato nel main la devo passare alla cerca parola insieme alla parola e cerca parola riceve un riferimento alla griglia e un riferimento alla parola e a sua volta deve passare queste informazioni parola e griglia alla funzione parola prosegue qua sotto altrimenti la funzione parola prosegue non avrebbe la minima idea di qual è la griglia in cui cercare o qual è la parola da ricercare proprio perché ogni funzione può vedere solo le variabili che le vengono fornite come parametro quindi questa funzione non può vedere le variabili della funzione precedente o del main e quindi ogni volta dovrò passare alla funzione tutti i parametri di cui hai bisogno può sembrare un po' noioso all'inizio anche perché magari questa parola questa variabile la stiamo chiamando parola in tutte le funzioni quindi sembra che sia la stessa in realtà non è la stessa sono tante variabili diverse allora come facciamo a capire se la funzione se la parola prosegue proviamo a vedere magari prima verso destra cerca verso destra ad esempio allora io potrei pensare di supponiamo che sia la D io sto cercando una parola allora so già che nella posizione RC c'è l'elemento dovrò cercare a questo punto nelle caselle destra quindi dalla posizione riga colonna devo incrementare di 1 la colonna ogni volta e andrò a vedere la seconda lettera della parola si trova nella posizione a destra di una posizione rispetto alla posizione di partenza se si vado avanti se no mi fermo non l'ho trovata quindi quello che posso fare è una cosa di questo genere devo ovviamente fare un ciclo in cui vado a prendere singole lettere della parola e verificare se le trovo nelle posizioni giuste della griglia quindi posso dire iniziamo dalla posizione uguale 0 della parola ok indice nella parola iniziamo dalla posizione di partenza fatemelo chiamare R1 C1 riga colonna uguale RC posizione di partenza nella griglia e cosa faccio ripeto il controllo se la posizione la lettera parola D è uguale alla griglia nella posizione R1 C1 li ho chiamati R1 C1 per non sporcare le variabili RC perché poi mi servono dopo allora se questa parola è uguale devo andare avanti se questa cosa è diversa invece interrompo vuol dire che mi devo fermare ok e ogni volta vai avanti cosa vuol dire vuol dire che R1 che C1 dovrà essere incrementato di 1 cioè mi sposto a destra quindi questo come lo posso scrivere semplicemente posso trasformarlo in un ciclo while qui c'è vuole un doppio uguale uguale scusate i uguale più 1 e C1 uguale C1 più 1 questa forse è la parte più complicata del programma io ho una posizione RC di partenza questa qua questa D 1 1 R uguale 1 C uguale 1 metto i uguale 0 quindi la prima lettera di dado della parola che sto cercando mi chiedo la prima lettera della parola è uguale al valore nella griglia alla casella 1 1 beh in realtà lo so già che è uguale perché ho chiamato questa funzione quando la prima lettera sapevo già che ci fosse però per semplicità ripartiamo dall'inizio della stringa anziché dal secondo carattere ricontrolliamo il primo carattere pazienza se quell'uguaglianza è vera bene vado avanti vado avanti controllando il carattere successivo quindi il carattere di posizione 1 però non mi aspetto ovviamente che sia nella stessa posizione mi aspetto che sia una colonna più a destra quindi incremento di 1 la posizione il numero di colonna mantenendo invariato il numero di riga ok questo lo devo fare quindi ogni volta che faccio un'iterazione riesco ad andare avanti perché ma perché quest'uguaglianza è vera quindi perché sto trovando nella direzione in cui mi sposto proprio i vari pezzi della stringa che stavo cercando quando è che mi fermo mi fermo quando o trovo un carattere che non c'entra niente oppure finisce la stringa oppure sono fuori della matrice perché qui poiché rc ovviamente è dentro la matrice ma poiché incremento la c può darsi che dopo un po' esca fuori dalla matrice prima di finire la stringa allora la condizione vera è questa poi devo aggiungere che ovviamente i sia minore della lunghezza della parola e devo anche aggiungere che c1 sia minore del numero di colonne della griglia magari per non scriverlo tutte le volte calcoliamoci qua numero righe uguale l'n di griglia e numero di colonne così è anche più leggibile uguale l'n di griglia di 0 quindi c1 deve essere minore del numero di colonne magari mettiamo questi controlli prima ecco scusate allora se sono ancora dentro la stringa e sono ancora dentro la tabella allora controllo il carattere ok e vado avanti così c'è una domanda di Andrea che mi dice cosa è scritto questa riga r1 c1 uguale rc è semplicemente un'assegnazione a tupla sto facendo r1 uguale r e c1 uguale c solo per pigrizia l'ho scritto tutto in unica istruzione un'assegnazione multipla è esattamente uguale a scrivere r1 uguale r e c1 uguale c l'abbiamo visto brevemente ieri quando vedevamo le tuple si possono usare questa sintassi multiple per assegnare più variabili in un colpo solo ok torniamo al nostro while questo while può uscire per vari motivi uscire perché questo è falso sono uscito dalla matrice pazienza uscire perché questo è falso ho trovato un carattere sbagliato pazienza oppure uscire perché questo è falso e allora vuol dire che ho trovato la parola perché ho esaurito tutte le lettere della parola senza mai uscire dalla matrice senza mai come dire trovare una lettera sbagliata quindi se per caso qua i è uguale all'en di parola cioè se sono uscito per colpa di i allora l'ho trovato altrimenti vuol dire che non c'è e allora dovrò cercare verso il basso verso l'alto verso sinistra e in tutte le altre posizioni per ora stiamo cercando verso destra proviamo a provare questo programma solamente con le parole che troviamo scritte da sinistra verso destra ok? così proviamo a vedere se questo codice è giusto allora stoppiamo il programma lo facciamo ripartire allora cerchiamo una parola una parola facile la k di una lettera sola ho trovato una k nella posizione 2,0 e poi finalmente mi dice trovata perché mi dice trovata perché questa funzione parola prosegue ha restituito true se io mettessi un'altra lettera che non c'è tipo la y non esistente finisce lì ok però una lettera sola è facile proviamo a mettere una parola di due lettere ko no k ko ko mi dice trovata me l'ha trovata proprio a partire dalla posizione 2,0 quindi questa qui se io avessi una parola più lunga anziché ko ko mi dice che la k nella posizione 2,0 l'ha trovata ma poi è una parola inesistente perché la k era a posto ma la u dove si aspettava di trovare una u dove questo controllo qui si aspettava di trovare una u nella posizione 2,1 colonna 2 riga 2 colonna 1 ha trovato invece una o e quindi non è andata bene questo while è stato interrotto ma i non è riuscito a raggiungere la lunghezza della parola quindi non ha fatto tutti i confronti che doveva fare e quindi esce proviamo un'altra rij questa qui vediamo se la trova rij la trova se io scrivessi una parola più lunga rij di nuovo e quindi nel cercarla rischierebbe di sforare dalla matrice lui dice che dr ce n'era quella nella posizione 1,2 ha cercato e non ha trovato poi c'era un'altra funzione un'altra r nella posizione 3,2 anche lì ha cercato e non ha trovato e alla fine non è esistente perché ovviamente quando il while si è fermato perché ha raggiunto il bordo della matrice la stringa non era ancora finita ok quindi noi andiamo avanti finché sono vere tutte queste condizioni il caso fortunato è quello in cui si diventi falsa la prima condizione cioè ho finito la stringa prima che diventino false le altre due cioè ho finito la matrice oppure ho trovato una lettera sbagliata questa condizione io uguale l'en parola è questo while va avanti con un end di tre condizioni quindi esce ok quando questa è falsa oppure questa è falsa oppure questa è falsa ok se questa è falsa ho vinto se questa è falsa ho perso se questa è falsa ho perso allora questo è il senso di questa istruzione qua la riga 91 if uguale l'en parola vuol dire che questa condizione era falsa ok questa condizione era falsa e quindi ho vinto quindi io questa if qua mi sta chiedendo mi sta dicendo se io sono la riga 91 sono uscito dal while perché sono uscito dal while qual è la causa che mi ha fatto uscire dal while se la causa era questa allora ho vinto altrimenti non ho vinto e quindi devo andare avanti a cercare mi chiedi la funzione stampa griglia te la metto qua nella chat anche se in realtà è molto semplice ok qui abbiamo ricercato verso destra adesso possiamo cercare verso sinistra cerco verso sinistra se ovviamente non ho trovato andando verso destra posso cercare verso sinistra e la ricerca verso sinistra sarà uguale i uguale 0 riparto da capo r1 uguale r c1 uguale c while la stessa identica cosa identico l'unica differenza è che mi sposto a sinistra quindi decremento il numero di colonna se lo trovo ritorna vero quindi lo stesso identico meccanismo riparto con i uguale 0 riparto dall'inizio della stringa riposizione r1 c1 nel carattere di partenza dove so che c'è la lettera iniziale della stringa e vado avanti il controllo che devo solo fare attenzione è questo controllo qua perché mentre prima controllavo che le colonne non fossero maggiori del numero di colonne e quindi non uscissi dalla matrice verso destra attenzione che qui sto andando sinistra quindi devo controllare che c1 sia dunque maggiore uguale a 0 cioè devo rimanere dentro la matrice quindi il c1 non può diventarmi negativo ok se fosse c1 uguale a 0 va bene perché vuol dire che sono sulla colonna sinistra della matrice ma se diventa negativo non va bene quindi devo fare attenzione a controllare il margine della matrice verso cui mi sto rischiando di schiantare quindi in questo caso adesso dovremmo poter trovare anche delle parole che sono da destra verso sinistra quindi ad esempio la parola IR la parola IR sta trovata partendo da posizione 1,3 vedete che c'è la I e la R è da sinistra IJ me la trova cercandola verso destra N-O-O è una parola che io potrei cercare da qui ma non la trovo andando verso destra mentre andando verso sinistra invece la troverei aspetta un attimo cosa ho fatto N-O-O invio ok me la trova quindi adesso mi trovo a tutte le parole andando a vedere a sinistra o a destra a questo punto è una questione di pazienza verso l'alto allora verso l'alto cosa cambia? che dovrò decrementare il numero di riga non il numero di colonna in alto e controllare che il numero di riga sia maggiore di zero oppure poi posso controllare verso il basso in cui incremento il numero di riga e controllo che il numero di riga sia minore del numero di riga minore di numero di riga e poi ho altre quattro casi che sono le quattro diagonali ci vuole pazienza quindi cerca verso quali sono i diagonali in alto a destra alto a destra allora per andare in alto a destra dovrò destra vuol dire che aumento le colonne in alto vuol dire che diminuisco le righe quindi le righe meno uno colonna uguale c1 uguale colonna più uno in alto a destra ovviamente devo fare attenzione che andando in alto il numero di riga sia sempre positivo e andando a destra il numero di colonna sia sempre minore del numero di colonne qui aggiungo una condizione in più ovviamente perché sto cambiando contemporaneamente la riga e colonna c1 minore di numero di colonne alto destra alto sinistra in alto sinistra decremento la colonna anziché incrementarla e ovviamente la colonna dovrò confrontarla con 0 c1 maggiore uguale 0 e poi ancora 2 abbiamo quasi finito quindi in basso sinistra in basso destra quindi al posto di alto mettiamo basso quindi abbiamo basso mi stavo perdendo allora alto destra alto sinistra basso destra basso destra vuol dire che la riga la incremento e quindi dovrò controllare che la riga sia minore del numero di righe e basso sinistra anche qua basso vuol dire aumento la riga qui facissimo confondersi vuol dire che la riga r1 sia minore del numero di righe in tutti gli altri casi qui mi manca ancora l'ultimo caso in cui ritorna falso cioè se se in una di queste otto condizioni trova qualcosa allora ritorna vero se nessuna di queste ritorna severo allora la mia funzione ritornerà falso dicendo non l'ho trovato in nessuna delle direzioni allora io mi sono accorto mentre lo facevo che era un'operazione molto noiosa di copia e incolla noiosa ma richiede anche attenzione al dettaglio perché se sbaglio una condizione poi non me lo trova più questo blocco qua di istruzioni mi verrebbe voglia fortemente di metterlo dentro una funzione no dentro una funzioncina che faccia questo lavoro qui così almeno il mio codice diventa molto più semplice anziché avere copia e incolla questa funzione che riceva magari come parametro questi più uno e meno uno che cambiano ogni volta e quindi dico senti vai in questa direzione vai in quest'altra direzione la chiamo otto volte con degli con due parametri in più che sono gli offset no l'offset di riga più uno zero meno uno o l'offset di colonna più uno zero meno uno quindi sarebbe stato forse più compatto però abbiamo cominciato a scriverla qua volendo si può rimaneggiare il codice come si dice in Gego rifattorizzare in modo da spostare dentro la funzione allora proviamo solo il codice un attimo poi lo condividiamo perché vorrei prima vedere che funziona allora la nostra famosa loda che cercavamo chissà se ce la trova ce l'ha trovata loda invece non me la dovrebbe trovare in alto a sinistra cerchiamo qualcosa che ricerchi in basso a destra Q o i la trovata partiva da qua va in alto a destra chiaro che bisogna fare un po' di prove nelle varie direzioni e soprattutto non beccarsi mai un'eccezione del tipo index auto range perché magari abbiamo incrementato una variabile troppo troppo poco e qui chiudiamo parola invio e finisce quindi io adesso vi posso buttare nella chat così all'istante il codice che abbiamo scritto finora che dovrebbe essere praticamente completo a parte teleprint che bisogna mettere a posto questo codice di fatto è un esempio di un codice di ricerca ieri abbiamo parlato della ricerca lineare in una lista questa è una ricerca lineare un po' più complicata perché sto cercando in parallelo all'interno di una stringa cioè il controllo di una stringa col contenuto di una tabella e questa tabella devo capire se mi sto spostando in una direzione piuttosto che in un'altra questo è particolarmente noioso perché devo cercare nelle otto direzioni separatamente prima in una poi in l'altra poi in l'altra direzione ancora però è una generalizzazione una complicazione se volete dell'idea della ricerca lineare nella ricerca lineare avremmo anche potuto scrivere avere una variabile un flag una variabile logica trovato se questo è diverso allora trovato diventa falso e allora puoi usare il trovato per controllare il ciclo while io l'ho scritta in questo modo perché mi è venuta in mente per prima questa forma però sono tutte varianti del stesso algoritmo di ricerca parto da una posizione incremento l'indice e vado avanti fino a quando non trovo ciò che sto cercando qui in questo caso sto cercando se mai diventa falsa questa condizione perché mi fermo quando questa diventa falsa è un po' il contrario ricercavamo gli elementi maggiori di 100 qui stiamo cercando gli elementi che sono diversi perché sono quelli che mi farebbero dire non l'ho trovata finché li vedo uguali non lo so devo andare avanti e se riesco ad arrivare fino in fondo dico che l'ho trovata se riesco ad arrivare fino in fondo è questo uguale a l'en di parola ripulisco poi un attimo questo codice l'ho riformato e poi ve lo pubblico bene anche sul sito del corso voi se volete provare a guardarlo vi posso condividere anche un'altra versione che ho fatto ieri molto più compatta un pochino più avanzata come codice quindi usa qualche scorciatoia in più di python che però era una cinquantina di righe quindi metà di questo programma qua proprio perché usava delle funzioni usava in più delle funzioni anziché ripetere con copia e incolla diciamo più volte la stessa cosa perché si può effettivamente avere una soluzione anche più semplice e più compatta ma l'algoritmo l'idea è sempre la stessa e mi ricordo che il cuore dell'algoritmo è questo il mio ragionamento è stato spezzo la ricerca in due fasi prima fase cerco la lettera iniziale la posizione della lettera iniziale e quindi cerco tutte le caselle quali contengono esattamente la lettera iniziale della mia parola e sono queste tre righe la seconda metà del ragionamento è partendo da quella da quella posizione e vedo se la parola può proseguire nelle otto direzioni e qua ci siamo un pochino impelagati nel senso che cercare questa prosecuzione della parola è un compito abbastanza noioso perché devo andare a verificare ciascuna delle otto direzioni separatamente ci siamo impegnati un pochino di più sulla prima direzione che era quella verso destra che abbiamo cercato di capire meglio quindi il mio consiglio che vi do è che se non avete capito bene il tutto concentratevi solo su questa parte di codice qua cioè risolvete l'esercizio in cui la parola dovete cercarla solo in una direzione ad esempio verso destra o ad esempio verso sinistra solo una direzione fate se riuscite a risolvere una direzione capendolo bene allora è facile poi sebbene noioso è facile generalizzarlo alle altre direzioni quindi se avete avuto difficoltà nel seguire questa cosa o nel pensarla il consiglio forte che vi do è fatelo partendo da una direzione sola e fatelo funzionare ok l'altra cosa che vi dico negli ultimi 30 secondi che mi rimangono sono se noi non avessimo iniziato a fare dei piccoli pezzi di programma provarli e poi aggiungere e poi riprovarli e poi aggiungere andando avanti in modo incrementale non ce l'avremmo mai fatta ok a risolvere questo esercizio perché avremmo scritto 100 righe di codice fai il run e si pianta non funziona e ti perdi quindi veramente questa disciplina del tipo scrivo un piccolo pezzettino ragiono sulla struttura generale e poi ok adesso implemento questa funzione ignoro il resto implemento l'altra funzione ignoro il pezzo di prima eccetera e ogni volta provo testo faccio delle prove è l'unico modo per poter arrivare alla fine diciamo così correttamente perché magari tanti piccoli problemini per strada li abbiamo trovati e li abbiamo risolti e quindi non non scrivete mai 20 righe di codice senza provare il programma scrivetene 5 poi lo provate poi ne aggiungete altre 5 e così via perché altrimenti state introducendo troppo codice che può avere troppi errori e diventa molto difficile poi ricercarli ok siamo riusciti nel tempo a concludere l'esercizio ovviamente lo potete meditare rispondo al volo alla domanda di Brando perché se io mi chiedo cosa serve questa istituzione main qua in fondo questa istituzione main serve per chiamare la funzione main che è qua all'inizio quindi io l'abbiamo si l'abbiamo c'è un'altra volta scorsa ma poi nel laboratorio di lunedì è comodo avere tutto il codice del programma dentro varie funzioni quindi questo è il programma principale l'avrei potuto mettere in fondo fuori da ogni funzione però avrei avuto qualche problema perché a parte che era in fondo quindi è difficile da vedere da trovare ma poi i nomi di queste variabili griglia parole eccetera essendo fuori delle funzioni sarebbero risultate visibili a tutte le funzioni ed è una cosa che preferiamo non fare allora come diciamo regola generale anche il programma principale lo metto dentro una funzione così rimane isolato le sue variabili rimangono isolate però ovviamente questa funzione la dovrò chiamare prima o poi perché altrimenti il programma non parte non fa nulla e la chiamo come ultima e devo dire unica istruzione nel programma che è fuori dalle funzioni stesse non è obbligatorio è un modo di organizzare il codice anche il programma principale anziché scriverlo qua sotto direttamente lo metto dentro una funzione e qua sotto chiamo solamente quella funzione lì ok altri dubbi dell'ultimo secondo ok allora vi posso salutare e ci rivediamo alla settimana prossima in cui i laboratori cercheremo di organizzare nuovamente come questa settimana spero che siano gli abietti trovati utili per chi diciamo così ha partecipato o alla correzione del mattino o alla consulenza del pomeriggio ma ci risentiamo chiaramente con i dettagli sul canale Slack grazie e buon appetito a tutti grazie